Cazzo, wow! Flex in zona! Flex in Rivert! La Rivert! Eeeh, ci siamo minacciati Anche i banani soffrono dalla mancanza di acqua Che fate? Sono inutili recuperati Bravi, e qui c'è il jersey proprio Pesa 120 kg, come lo portiamo? Pesce 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 değ Pesce 20 vogliamo vedere il bing preso, la posita ho lasciato mettere in macchina e che mi arrivano alla macchina direttamente perché è aperta o non bella bella il microfono, il bing del microfono così funzionano le cose in piazza Arcide è un scherzi grossi no è scherzi di ocane bravo, però mi servirebbe pure a pitcharla a me se me la puoi dare il cuore il cuore il cuore la 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 l'acca c'è 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 Grazie a tutti. 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 3, 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, via! Ci vorrebbe un amico che facesse la death race al posto mio, mi sono rotto il menisco. Comunque io vi dico, devo ancora vederlo quello che fa Backside Powers High La. Mi ha fatto non per frenare, per squaggare. No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no. Ragazzi, un applauso a Mel Singh che abbiamo litigato questa mattina! siamo di nuovo fratelli come niente singa pezzo di merda come se piovessero giocano la sbaglia bianca ma non sono angeli forse il mazzurini dovrei dargli tutte le birre che ci sono quindi siete fortunati ricordiamo che ricordiamo che jersey ha fatto il metro resina oh my god bubba 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 e non dico cazzo venite qua bubba bubba